ciao amici a chi piace il minestrone io lo adoro invece bevi squaletto non lo vuole mai mangiare ma i bambini fa benissimo se li abituate anche quando fanno storie dopo si leccherebbero il piatto oggi vediamo la ricetta di un minestrone light ma nutriente e speciale cioè anti raffreddamento se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video gli ingredienti segreti di questo minestrone scacciamalani sono due zenzero e curcuma di bene in meglio piacciono anche a voi amici lo zenzero è un potente antisettico amico delle vie respiratorie grazie allo zingiberene la curcuma dal colore arancio è antivirale antinfiammatoria stimola il sistema immunitario insieme sono una vera bomba in senso buono per il nostro sistema immunitario e la ricetta eccola prima di tutto mescolare verdure e legumi così il piatto resta leggero ma è nutriente come legumi vanno bene lenticchie piselli fagioli ceci per non avere problemi di gonfiore aggiungete due pezzetti di alga kombu alla cottura le verdure vanno bene tutte io consiglio di non farsi mai mancare carote zucchine crucifere pomodori patate per fare un minestrone leggero insaporitilo con poco olio extravergine di oliva brodo vegetale bio e le nostre amate spezie un cucchiaino di zenzero e uno di curcuma se sono in polvere oppure un cucchiaio di radice grattugiata di zenzero e uno di curcuma se sono freschi io per cuocere più velocemente uso la pentola a pressione ci vuole davvero pochissimo buona idea eccone un'altra se poi con zenzero e curcuma volete fare anche un rimedio anti tosse e raffreddore potete guardare questo video e la playlist sui rimedi naturali più potenti in inverno i link sono in descrizione ora iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video mangia sano e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri e the book per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao